messaggio divino è una luce per il santo cammino e tutto vicino tutto vicino lo capite che siamo alla fine dei tempi e dei santi interventi divini o ancora vi ostinate su cose che da lui non sono destinate ma perché vi preoccupate e non capite che questo tempo che viviamo nulla sarà lontano alcuni pensano che non arriva mai ma tu donna o uomo che tu non lo sai sarà il vano mondo nei brutti guai il mondo del dio denaro che mondo raro che mondo avversario che non conosce il mondo nuovo è originario in appena prossimo in vostro il nostro vero dio alzerà il suo sipario o poveri voi come siete malmessi in un mondo di compromessi che da dio non saranno ammessi quale sono per voi le vive messe di continuare a fare compromesse che non sono le vere e le vive messe ma come siamo malmessi pensare solamente gli interessi che dottrina è questa non di certo cristo che sta rovinando il mondo o è l'uomo iniquo che sta rovinando le cose vere per portare ancora fango dove il fango non c'è o come siamo malmessi che non capiamo le vive messe e continuiamo nelle false compromesse adesso ci sarà il basta di dio che non conta più il tuo povero misero io la tua stupida ragione crea solamente nelle brutte prigioni e allontana le vere illuminazioni amen alleluia porrà fine a questa vana terra buia amen alleluia